Buonasera cari telespettatrici, buonasera cari telespettatori di Rossini TV, una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. Vedete fra il vasto numero dei medici, del personale sanitario che collabora con Fisioradi Medical Center, oggi abbiamo scelto di intervistare la psicologa Micaela Ucchielli. L'avevamo già incontrata in occasione della prima edizione del nostro programma. Micaela Ucchielli che è psicoterapeuta, psicoanalista, docente IRPA, Istituto Ricerca Psicologia Applicata e soprattutto è presidente della società marchigiana di psicoanalisi, collabora anche con l'equipe medica dello Iopra Pesarese, quindi una figura davvero di grande rilievo nel campo della psicologia. Il tema che affronteremo oggi è un tema davvero importante perché riguarda i disturbi alimentari è nella fattispecie quella drammatica patologia che si chiama anoressia. Dottoressa Micaela Ucchielli, buonasera. Buonasera Antonio, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi anche quest'anno in questa seconda edizione di Check Up Obiettivo Salute. Qui si parla di una disciplina che interviene davvero all'interno delle persone perché la psicologia, la psicoanalisi entra nel profondo di tutti noi. Il 10 ottobre è stata la giornata dedicata alla salute mentale. Tanti disturbi che si sono manifestati poi con la questione legata alla pandemia, depressioni, ma oggi volevamo concentrarci soprattutto sui disturbi alimentari, quindi anoressia, bulimia e obesità. Partiamo per esempio dall'anoressia che è una sorta di patologia che davvero riguarda purtroppo tantissime persone. Sì, hai detto bene. L'anoressia è un sintomo che per certi versi è tornato alla moda, è stato definito per tanti anni un sintomo della moda. È un sintomo tornato alla moda come molti altri che hai già citato, ansie, depressioni, attacchi di panico. Per esempio, forse per essere più precisi e anche un po' romantici, per dirla così, dovremmo chiamarla amoressia più che anoressia. Che vuol dire che dovremmo chiamarla amoressia? Che l'anoressia non è, questo almeno per la psicoanalisi evidentemente, una malattia dell'appetito, un disturbo dell'appetito, come non lo sono la bulimia e l'obesità, ma sono una posizione del soggetto, come lo sono i sintomi in generale per la psicoanalisi. Una posizione del soggetto che si articola, dunque quando dico una posizione del soggetto intendo una scelta soggettiva evidentemente inconscia, che si articola nel caso dell'anoressia come un rifiuto. Quello che noi osserviamo fenomenicamente nel caso di soggetti anoressici, dico soggetti perché è vero che l'anoressia è una patologia prevalentemente femminile, di cui amoressia, perché la questione dell'amore tocca elettivamente le donne, ma questo sintomo che fino a qualche decennio fa era un sintomo con un'insorgenza prevalentemente adolescenziale, adesso diciamo si è spalmato nelle varie fasce di età, quindi osserviamo le onoressie infantili, le onoressie anche donne diciamo di età non più giovanissima. Hai toccato un punto molto importante Michela, questo dell'età, però è altrettanto vero che quando riguarda le persone giovani che sono inserite in un ambito familiare, ovviamente ci sono dei segnali e le famiglie in certi casi li possono cogliere forse in maniera abbastanza precoce per poi provare a intervenire e a rimediare a questo problema. Allora come dicevo prima noi consideriamo l'anoressia non un disturbo dell'appetito ma una posizione soggettiva, questa posizione si articola come un rifiuto, quindi quello che noi osserviamo nelle anoressie è svilupparsi di un rifiuto radicale, ostinato, tenace al cibo e dunque alla tavola dell'altro e quindi all'altro. Questo rifiuto punta nell'anoressica a ribaltare una posizione di potere. Se tu ci pensi nel rapporto fra la madre e un bambino, il bambino è il soggetto inerme che dipende dalla presenza dell'altro che risponde ai suoi bisogni, il bisogno fisiologico dell'appetito. Allora il tempo dell'adolescenza è stato e ancora è, non esclusivamente ma prevalentemente, il tempo di insorgenza di questo sintomo che è un sintomo che denuncia una difficoltà di separazione dall'altro materno, separazione che non potendo essere articolata nel simbolico viene agita attraverso il rifiuto del cibo. Quindi dire no alla tavola dell'altro è un modo di ribaltare questa posizione di potere perché rifiutare il cibo mette in scacco l'altro, la madre soprattutto. Quindi metaforicamente si può dire che quando il bambino, il neonato, piange, urla perché vuole mangiare, manifesta un qualcosa, un desiderio, una sua necessità, probabilmente una giovane, un adolescente che all'improvviso o comunque in un percorso si ritrova a dimagrire in maniera preoccupante, allo stesso tempo manifesta un qualcosa che non va e sulla quale provare a intervenire attraverso diversi strumenti. Hai colto precisamente il punto che volevo lavorare bene perché questo che tu identifichi come un appello, il grido del bambino, il bambino che piange è un appello all'altro. Allo stesso modo questa posizione soggettiva che si articola come un rifiuto è un appello rivolto all'altro, cioè in questo rifiuto in realtà quello che si articola è una domanda d'amore. Mi vedi? È una domanda che va al di là della soddisfazione e del bisogno. Quello che l'anoressica denuncia col suo sintomo è che l'amore non passa per il cibo e che il soggetto non è un tubo digerente, che non si riduce all'oggetto delle cure. Lacan diceva che sono i soggetti nutriti con più amore, con più sollecitudine, a sviluppare spesso un disturbo alimentare. Sono i bambini che non mancano di nulla. Allora l'anoressia punta a mettere in evidenza questa dibaricazione fra il bisogno e il desiderio e l'amore. Non voglio il tuo cibo, voglio il tuo amore, voglio il segno del tuo amore. E' come se fosse una piccola Gretel, se scompaio, finalmente mi vedi? Io ho assistito, quando lavoravo a Laba, che era l'associazione a Milano che si occupava dei disturbi alimentari, a colloqui con genitori angosciati, preoccupati, sofferenti, ma che mi stupivano per la loro difficoltà di vedere la sofferenza della figlia. Davanti a ragazzine che arrivavano a pesare 35 kg, ascoltavo i genitori dire che non c'eravamo accorti che fosse dimagrita 10 kg, 15 kg. Non è un caso che questo sintomo venga utilizzato per essere visti in una forma del tutto paradossale, evidentemente. Esatto, perché magari, anche e soprattutto nella cultura italiana, c'è questa situazione nelle quali la mamma si rivolge al figlio e non solo al figlio, mangia, 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 non si mangia perché si ha bisogno di qualcos'altro, come hai detto giustamente te, proprio di un aspetto molto più grande come quello in realtà dell'amore e dell'accoglienza. L'anoressia ovviamente in alcuni casi si può curare, si può provare a curare con l'intervento di una psicoanalisi fatta bene nel tempo per andare a vedere di rimediare a questo problema. Allora, le anoressie vanno chiamate al plurale perché essendo una posizione soggettiva e dunque un sintomo, cioè una denuncia inconscia di, diciamo, qualche cosa che non va, che si articola nella forma di questa manifestazione nel caso dell'anoressia di rifiuto del cibo di estrema magrezza, di mancanza del ciclo mestruale, tutto quello che noi osserviamo da un punto di vista fenomenico, estremo di magrimento, eccetera, è una posizione del soggetto, come abbiamo detto, una posizione di rifiuto che si articola in maniera diversa per ciascun soggetto. Non esiste un'anoressia uguale ad un'altra, non esiste un'anoressica uguale ad un'altra. Allora, le anoressie si possono curare a seconda, naturalmente, del tipo di anoressia. Che vuol dire che si possono curare a seconda del tipo di anoressia? Che la cura risponde al soggetto, dunque si possono curare, sì, sempre, in maniera differente a seconda di come il sintomo si articola la struttura. Mi spiego. Ci sono anoressie più, che noi chiamiamo nevrotiche, per intenderci, diciamo, la nevrosia è la posizione meno grave, diciamo così, del soggetto. Meno grave vuol dire che risponde più facilmente a una terapia come quella psicoanalitica, che è una terapia della parola. Allora, in quel caso, molto spesso è sufficiente un lavoro di cura, un lavoro analitico, che punta a ribaltare la posizione anoressica come identificazione, dunque potremmo definire l'analisi come un passaggio che va dal nome generico, sono un'anoressica, al nome proprio, sono Francesca, Chiara, Sara, Micaela, eccetera. Cioè implica il soggetto nel sintomo di cui si lamenta, lo mette al lavoro. Questo quando accade? Perché, Antonio, disturbi alimentari non sono di facile cura per riagganciarmi alla questione dei genitori, a che cosa fare attenzione. Quando un soggetto si trova in una posizione anoressica, che come abbiamo detto è una posizione di grande potere, noi la chiamiamo la cosiddetta luna di miele col sintomo. Tu immagina che cosa accade quando un soggetto può sperimentare la potenza del controllo dell'appetito. È una sorta di vertigine, di estasi. E finché i soggetti sono in quel tempo lì non domandano una cura. Ce li portano i genitori perché sono angosciati, giustamente, preoccupati, sarebbe meglio dire perché se ci si angoscia è un po' un problema, ma ci si angoscia in quanto genitori. Ma il soggetto è felice, dovremmo dire che la pulsione è felice. Allora, in quel caso lì la difficoltà consiste nel provare a dividere quella compattezza che il sintomo anoressico cementifica, cioè introdurre il non va, introdurre la divisione soggettiva, che di solito interviene quando, diciamo, il controllo anoressico fallisce. E allora si passa alla crisi bulimica, alla buffata, che disturba l'equilibrio, il controllo del soggetto, che angoscia in quel caso la ragazza, che sia con o senza vomito. E allora in quel caso lì si presenta una domanda di cura che però molto spesso non è la domanda di saperne qualche cosa di quel sintomo, cioè perché non mangio, mi accade questo perché, ma è una domanda di ristabilire l'equilibrio precedente. Toglimi la bulimia e ridammi l'anoressia. Certo, hai utilizzato un concetto molto importante, quello del potere, perché effettivamente l'adolescente, il giovane che si ritrova a vivere questa condizione esercita un potere enorme sugli stessi familiari, che all'improvviso si accorgono di lui e quindi cambiano anche il loro atteggiamento. Michela, per avviarci alla conclusione, chiaramente anche questa è una patologia che tu hai già definito, può essere definita un nuovo esempio di medicina personalizzata, quindi assolutamente una nuova linea che la medicina sta seguendo, ma soprattutto anche di interdisciplinarità, perché interviene l'aiuto del psicoterapeuta, ma possono intervenire altre figure sanitarie sicuramente a provare a migliorare questa condizione patologica. Allora, sì, prima parlavamo della particolarizzazione della cura. Chi lavora col soggetto onoressico bulimico occupa una posizione terza. Questa posizione terza è fondamentale perché i disturbi alimentari sono diciamo disturbi che denunciano la difficoltà di una separazione, in particolare di separazione dall'altro materno. Di solito si tratta delle brave bambine, bravissime studentesse, ottime negli sport, che ad un certo punto la madre soprattutto non riconosce più. Quindi smettere di mangiare, mangia, non mangio, è diciamo una forma evoluta di capriccio infantile in cui il soggetto si oppone all'altro, dice no e dire no è la prima forma, la più rudimentale forma di separazione, non sono te. Allora, in questo quello che noi osserviamo appunto è che questo rapporto madre figlia è di solito un rapporto molto stretto, molto intenso da cui la madre taglia fuori tutti, per primo il padre e la madre che sa esattamente ciò di cui la figlia ha bisogno. Lacan lo chiama il desiderio cannibalico materno che è la deriva potenzialmente devastante di ogni desiderio materno sui propri figli e che lui identifica con le fauci del coccodrillo che tendono a richiudersi sul suo frutto. Perché queste fauci non si richiudono è necessario l'intervento di una figura terza, che dovrebbe essere il padre, che si mette di traverso, come un paletto, impedendo a queste fauci di richiudersi. Quando questa figura funziona non troppo bene, e questo accade nei disturbi alimentari sempre, la figura dell'analista funziona come terzo, dello psicologo, della struttura, del nutrizionista, cioè come qualcuno che interviene a distanziare questa posizione di reciproca soddisfazione, se non sembra che accusiamo sempre le madri. Cioè per una madre che, diciamo, la cui figlia funziona come oggetto, come oggetto narcisistico, noi diciamo come tappo fallico, cioè come ciò che ottura la sua mancanza, c'è una figlia... Quasi come specchio anche forse. Anche, sì, sì. C'è una figlia che in quella posizione si mette, cioè che non rinuncia facilmente al posto della brava bambina. Il sintomo anoressico è un modo fallimentare, perché questa onnipotenza è una onnipotenza evidentemente fallimentare. A differenza della bulimia d'obesità, dove noi invece vediamo un rapporto di dipendenza dall'oggetto, l'anoressia vorrebbe emanciparsi completamente dall'altro, attraverso questa presunta indipendenza che in realtà denuncia una impossibilità dell'indipendenza. Dunque occorre lavorare anche per far esistere questa terza funzione che può essere non solo e non necessariamente quella dell'analista to cure. L'analisi, la parola, ha un potere che non è onnipotente, se no ci mettiamo a fare anche noi le anoressiche. E quindi a volte occorre lavorare in gruppo, in maniera integrata, a rivolgersi ad altri specialisti, anche alla figura di un nutrizionista. Nei casi gravi ci sono le strutture. Certo. Michela, grazie. Ci hai dato davvero un quadro esauriente. A mio parere diverse volte ho sentito parlare di questo argomento, mai in maniera così dettagliata e soprattutto efficace. Quindi dei consigli utilissimi. Ti ringraziamo davvero, soprattutto a nome di tante persone che vivono questa situazione. Grazie a voi. Grazie Michela. Arrivederci. E buona serata a tutti. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.